Ciao a tutti ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Predizioni Italia-Svizzera Allora, se ovviamente domani vinciamo questa partita contro la Svizzera Siamo ai sedicesimi di finale Cioè passiamo sto turno Che è stato veramente un girone abbastanza facile Fino adesso Domani dobbiamo battere a tutti i costi la Svizzera Che ovviamente è più forte della Turchia a tutti i livelli Tiene Shaqiri, tiene Sommer Che importa, è un bravissimo portiere Quindi secondo me domani sarà un po' più difficile Della Turchia Ma secondo me vinceremo e passeremo questo girone Che è una minchiata Questo girone è una minchiata di quelle colossali Quindi è facile, è facile Basta difendere e attaccare Esattamente come contro la Turchia E battiamo la Svizzera E poi giochiamo col Galles E poi passiamo E pensiamo a giocare la seconda del girone Della Svizzera Anzi dell'Olanda Tra Ucraina oppure Austria Quindi già ci è andata abbastanza bene Bene, fino a mo' cerchiamo di tenere questo passaggio Perché fino adesso ho sentito che Siamo stata l'unica squadra a giocare meglio Di tutto il campionato Ovviamente la Spagna ha fatto il 3-0 Uno schifo contro la Svezia La Germania gioca stasera Quindi fino adesso abbiamo fatto la miglior partita noi Siamo stati migliori noi Quindi se dobbiamo almeno vincere questo europeo E portarcelo a casa Che sarebbe una cosa veramente stupenda Vincere questo europeo E battere tutti quanti Allora dobbiamo vincere questa partita Perché è veramente importante Comunque io penso che finisca 3-0 Italia Ancora una volta Perché se ne insigne Belotti e Chiesa Come se ne continuano nei miei commenti Le vostre decisioni Domani questa partita è assolutamente da vincere Loro in riga adesso Un 3-0 Come ho appena detto io Sarebbe perfetto Un 3-0 ci mette Ci prende e ci mette Nei sedicesimi di finale E poi la Turchia e il Galles La Svizzera se la invitano loro Ma ovviamente è importantissimo Vincere domani Comunque forse te da sempre E forse io sempre Prima di vincere domani Perché è importantissimo Passare questo gioco E andare a Wembley A prenderci questa coppa Che manca da più di 30 anni Ciao Forse da sempre